Anche in mezzo all'oceano indiano si cerca il modo per sfuggire al covid sull'isola di Reunion. È iniziato un coprifuoco che durerà fino al 23 gennaio, tutti a casa dalle 21 alle 5 del mattino, con possibilità di uscire esclusivamente per motivi eccezionali ed è stato ovviamente un brutto colpo per il turismo. D'altra parte l'emergenza continua a infuriare un po' ovunque, ci spostiamo nel maggior ospedale di Marsiglia dove i medici e gli infermieri dopo settimane di lavoro estenuante si sono concessi un piccolo momento conviviale per festeggiare l'anno nuovo. Sono molte le famiglie dei pazienti ricoverati che hanno voluto donare qualche prelibatezza per ringraziare chi incessantemente si prende cura dei loro cari. A Cipro nuova restrizione al vaglio del governo dopo un drammatico aumento dei casi. Nelle ultime due settimane siamo passati dai 600 contagiati all'inizio dicembre ai 5.048 alla vigilia di Capodanno. Non è andata bene ai temerari che si sono arrischiati a prenotare una crociera di fine anno. I passeggeri dell'Aida Nova, dopo che i 52 membri dell'equipaggio sono risultati positivi, sono ora bloccati nel porto di Lisbona. E nonostante tutto si continuano a registrare battaglie negazioniste come a Stoccarda, un centinaio di attivisti non autorizzati ha sfidato la polizia per protestare contro i vaccini.